Ricorrono 50 anni da quella meravigliosa impresa che Franco fece, che finì sfortunatamente a GAP, beffato proprio agli ultimi metri da un altro grande italiano, Marino Basso, che vinse quel campionato del mondo. Il nostro premio si chiama Quando la bravura supera le ricompensa sul campo e va ad onorare coloro che, dando tanto allo sport, non furono in quella particolare circostanza premiati come avrebbero meritato. A 50 anni da quella beffa mondiale, subita nel 1972, l'ex campione di ciclismo, Franco Bitossi, sarà protagonista della seconda edizione del premio Quando la bravura supera la ricompensa in campo. Bitossi ha vinto tantissime corse, ha vinto 150 corse circa alla professionista, con due giri di Lombardia, tappe al Giro d'Italia e al Tour de France, classifica punti al Tour al Giro, classiche di ogni genere. L'evento è promosso dalla delegazione provinciale Hansmes, l'associazione nazionale Stelle Collari e Palme al merito sportivo. Di valori sportivi ma anche valori culturali, perché lo sport è anche cultura in questo caso. È un'iniziativa lodevole perché per tutti gli appassionati di ciclismo, ma anche per gli atleti che oggi praticano questo sport, è interessante e importante conoscere la storia di questo sport e campioni del passato. L'ex campione di ciclismo verrà premiato domenica 4 settembre nel Salone delle Feste al Circolo Artistico alle 11.